Presentata nella sala conferenze del CONI Molise a Campobasso la due giorni di Play the Games Special Olympics di nuoto che si svolgerà il 25 e 26 marzo presso la struttura sportiva M2 Movement a Campodipietra. Il professor Giuseppe Calcagno, direttore regionale di Special Olympics Italia, ha espresso grande soddisfazione perché il Molise rappresenta la prima tappa del 2023. Da marzo a giugno, infatti, l'Italia sarà attraversata da 17 eventi che coinvolgono diverse regioni con migliaia di atleti che avranno l'opportunità di gareggiare nelle varie discipline. Il tutto in previsione dei giochi mondiali estivi 2023 che si svolgeranno a Berlino dal 17 al 25 giugno, un colorato festival internazionale dello sport con l'obiettivo di diffondere una filosofia inclusiva e accogliente in tutto il mondo. Prevista in Molise la partecipazione di circa 55 atleti con disabilità intellettiva relazionale accompagnati da 14 tecnici. La serata inaugurale di questo appuntamento è in programma domani a partire dalle 17 presso l'auditorium dell'Istituto Comprensivo Statale Igino Petrone del Capoluogo. Grazie a tutti.